Salgono a tre le attività commerciali prese di mira dei malviventi nei giorni scorsi nel centro storico di Caltanissetta. Dopo la pizzeria sita in piazza Mercato, dove i malviventi hanno spaccato la vetrata e prelevato il registratore senza soldi all'interno, si sono verificati altri due casi lungo il corso Umberto. Dopo aver notato un'imbronda di scarpa nella vetrata e un tentativo di forzatura, il titolare di un'attività di argenti preziosi ha contattato la polizia, ma per fortuna nulla di grave. Invece, caso analogo della pizzeria, in un'attività commerciale di orologi, dove i malviventi hanno spaccato la vetrata e rubato il registratore senza soldi all'interno. Interventi degli agenti delle volandi, rilievi affidati alla polizia scientifica.